Ancora una giornata quella di ieri a zero decessi da coronavirus come le 24 ore precedenti. Due giorni in cui nonostante sei nuovi contagiati in tutto la speranza di vedere una regressione totale dell'epidemia si sta facendo ancora a strada. I dati sono stati comunicati dall'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini che ha definito positivo il trend attuale. Complessivamente nel nostro territorio sono state contagiate da covid poco più di 4.500 persone mentre i decessi sono stati 958. Al consiglio comunale di ieri è intervenuto il direttore generale dell'USL Luca Baldino che nell'audizione ha spiegato che ora l'obiettivo è quello di individuare tutti i positivi al covid-19 presenti sul territorio per isolarli. Nonostante da oltre una settimana non si registrino accessi al pronto soccorso con persone che lamentano sintomi Baldino ha tenuto comunque alta l'allerta. Indubbiamente la situazione della pandemia è in fase di remissione, ha spiegato, ma il virus non è scomparso. Il caldo e il distanziamento sociale aiutano ma dobbiamo arrivare a contagi zero entro fine estate. Fondamentale quindi la sorveglianza che rimane il punto cardine su cui poggia la riprogrammazione della sanità piacentina. La gestione dell'emergenza è stata argomento di interventi da parte dei consiglieri comunali con alcune critiche, a partire dalla mancata chiusura di Piacenza subito dopo l'esplosione a Codogno, fino alla scarsità di dispositivi di protezione e i ritardi sui test sirologici e i tamponi e linee di difesa dell'operato dell'azienda sanitaria, soprattutto in relazione a una situazione di grande difficoltà dovuta a un evento imprevedibile e sconosciuto nella sua evoluzione. Di errori sicuramente ne sono stati fatti, ha concluso Baldino, ma solo chi non fa non sbaglia. Grazie a tutti.